Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni! Oggi è mercoledì 25 agosto 2005, vedete il titolo del video? Giorgio Nabolitano, cioè il nostro Presidente della Repubblica, analisi del testo. Cioè oggi in questo video facciamo l'analisi del testo, cioè del messaggio che il nostro Presidente della Repubblica ha mandato ai tre operai della Fiat, mi pare di Melfi, non credo che siano quelli di Pomigliano d'Arco di Melfi, mi pare ai tre operai della Fiat che erano stati sospesi dalla Fiat a seguito di problemi di natura sindacale, di proteste e via di seguito. Questi tre operai, la Fiat li aveva sospesi, che aveva sospesi e loro hanno fatto ricorso al giudice del lavoro e il giudice del lavoro ha detto no, no, vanno reintegrati. La sentenza dei giudici del lavoro però è una sentenza molto, 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 molto articolata, molto, molto, molto articolata, per cui la Fiat, povera Fiat, ha fatto ricorso a un giudice superiore e nell'attesa la Fiat ha detto va bene, io Fiat, il giudice del lavoro ha detto che voi non potete essere licenziati, per cui voi tre operai di Melfi non riprendete servizio, però noi della Fiat li paghiamo lo stesso, noi non vi vogliamo nello stabilimento, noi della Fiat, però li paghiamo lo stesso, intanto che decide il giudice di secondo grado. Allora gli operai della Fiat, di Melfi mi pare, offesi dal fatto che la Fiat abbia detto no, noi non vi vogliamo nello stabilimento, no, li paghiamo lo stesso, ma non vi vogliamo, noi della Fiat aspettiamo che si pronunci un giudice superiore e loro hanno fatto un appello al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiedendo il suo intervento, capito? E Giorgio Napolitano l'ha fatto ieri l'intervento, cioè ieri e il giorno precedente oggi, capito? Ha fatto un intervento Giorgio Napolitano e su questo intervento i giornali ci si sono buttati sopra, il Corriere della Sera guarda il paginone qua, Napolitano, cosa c'è scritto lì? C'è scritto, ah, Napolitano critica la Fiat. Napolitano critica la Fiat, Napolitano critica la Fiat, cari amici, se non ci fosse questa mia piccola TV, le notizie che voi apprendete dalla stampa e dalla televisione, le apprendete tutte le formate, ma per fortuna è che c'è Serafino Massoni che le raddrizza come si deve le notizie del nostro mondo politico. Hanno chiamato Giorgio Napolitano, poveretto, con tutto quello che c'ha da fare. Io, cari, il messaggio di Giorgio Napolitano l'ho scaricato da Internet, vedete là su in alto Economia, Roma 20 ed ieri, il messaggio di Napolitano, vedete l'agenzia ADN Cronos, è una delle più grandi agenzie giornalistici, ADN Cronos, ANSA, poi c'è AG, AG, Associazione Giornalisti Italiani, ovviamente l'ADN Cronos ha trasmesso il messaggio di Napolitano, del Presidente Napolitano, nudo e crudo, e poi i giornalisti, ogni giornale, ci ricama sopra come gli pare. Allora io memorei dei tempi in cui ero preside di liceo, e vedevo i professori che dicevano agli studenti, beh, ora facciamo l'analisi del testo, l'analisi testuale del testo tal di Dali, un testo tal di Dali, va bene, è un testo letterario, che ne so, è un testo poetico, un testo filosofo, facciamoci l'analisi testuale, l'analisi del testo. Io oggi intendo fare l'analisi del testo, del messaggio del Presidente Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Beh, guardate, come premissa, cari amici, ah, guardate, io vi voglio ricordare sempre, mi raccomando, eh, mi raccomando, dovete sempre guardare, quasi quasi dovete farlo una volta al giorno, e il mio video intitolato Intitolato Se io fossi il premier, chiaro? Tutti i giorni, come una sorta di mantra, va ripetuto tutti, va guardato tutti i giorni quel video, che non è manco lungo, cari amici, è anche gradevole, intitolato Se io fossi il premier, cioè se io, Seraphino Massoni, fossi il premier, ripeto, Se io fossi il premier, è un video da guardare tutti i giorni, proprio come pregare quelle preghiere che si chiamano mantra, recitarle sempre, e vi farà tanto bene, ecco, potete capire tante altre cose, vero, cari amici? Ah, poi devo ripetere qua formalmente quello che dico da tanto tempo, che dico da tanto tempo, che ho anche detto recentemente, mi pare ieri, un video di ieri, non mi ricordo il titolo, non mi ricordo, dico che io mi sono laureato a Roma nel 1966, e mi sono laureato, però siccome in famiglia non c'erano i soldini, i soldini, ho fatto il fornaio per sei anni, capito? Il fornaio, quello che fa il pane, il pane lo si fa di notte e lo si vende di giorno, io il pane, insieme agli altri fornai, lo facevo di notte, e di giorno studiavo, per sei anni, conosco tutti i segreti di quella che si chiama arte bianca, arte bianca, cioè l'arte della farina, e per questo che ce l'ho un poco con soggetti come Mario Capanna, come Mario Capanna, quanti video che ho fatto su Mario Capanna, quanti ne ho fatto, è l'ultimo, è intitolato Mario Capanna e gli operai, sì sì, ma si intitola proprio così, dovete vederlo Mario Capanna e gli operai, però non dimenticate il mio video, intitolato Se io fossi il premier, ok? Dice tutto il mio programma, allora, che poi è il programma di questa televisione, di questa televisione, pubblica, pubblica, che YouTube mi consente di tenere in vita, allora, io non faccio nessuna distinzione tra lavoro manuale e lavoro mentale, per me, uno che fa lo scopino per strada è più pulito di un avvocato, tanto per chiarirci le idee, e andate di nuovo a vedere il video, di tutto lato, se io fossi il premier, Allora, il Presidente della Repubblica, ma cari operai, cosa siete andati a scrivere al Presidente della Repubblica? Lui non c'era la competenza per queste faccende, voi avete voluto soltanto, con rispetto parlando, siete stati sollecitati dalla FIOM, ma neanche dalla CGL, dalla FIOM e a fare un po', scusate cari, non vi offendete, a fare un po' di casino, un po' di casino, ma lo sapete bene in che situazione globale ci troviamo, no? Si vede, cari amici, voi siete tre operai, a me dispiace della vostra situazione perché vi ho detto prima che io l'ho fatto il lavoro manuale e lavoravo pure di notte, lavoravo, capito, per sei anni e studiavo di giorno, capito? Quindi, cari amici, a me dispiace della vostra situazione, ma si vede che voi tre operai di questo stabilimento di Melfi non la seguite la mia TV, non la seguite perché dovevate vedervi i miei filmati intitolati la Cina è vicina e poi occidente default, cioè default, chiaro? Se voi aveste visto, se voi se voi avevate la fortuna di seguire questa mia televisione e di vedere tra i tanti video anche la Cina è vicina e occidente default, non ce la scrivevate voi la lettera, cioè non facevate l'appello al nostro presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che avete detto ovviamente spinti spinti dalla FIOMA, neanche dalla CGL, dalla FIOMA, dove ci sono i duri e i puri, i duri e i puri, ecco, quando ogni volta che si parla di duri e i puri a me viene in mente quel film, un film degli anni Ottanta che veniva dall'America intitolato I duri dell'Oklahoma, i duri dell'Oklahoma, proprio così, mi è rimasto un presso questo titolo, I duri dell'Oklahoma, e così cari, e voi, voi, tre operai che avete la mia solidarietà ed è la solidarietà di uno che ha fatto per sei anni il fornaio, poi studiava di giorno, e non è facile, però si può fare tanti e io ne conosco tanti di miei amici che poi hanno fatto la mia stessa carriera che lavoravano di notte o anche di giorno mica tutti hanno fatto i fornai per mantenersi gli studi e poi ci sono laureati a fatica, io per esempio invece di quattro anni standard per la mia laurea ho impiegato sei, sei ne ho impiegati dei anni, capito? Sei anni ho impiegato, però mi sono laureato facendo il fornaio, quindi voi non potete dire a me che io sono un intellettuale che non ne sa nulla del lavoro manuale, capito? Non me lo potete dire questo, cari amici, capito? io il lavoro manuale lo conosco bene e lo rispetto, lo rispetto, nel video che ho fatto ieri intitolato Mario Capanna e gli operai ho detto chiaro e tondo che non si deve fare distinzione tra lavoro manuale e lavoro mentale, il lavoro è tutto uguale il lavoro, è tutto uguale, d'accordo? non c'è nessuna differenza e ripeto, per me quasi è più onesto uno scopino, è più da apprezzare uno scopino che un avvocato, è conto mio, d'accordo? E ripeto, cari operai della Fiat di Memphis, voi tre, vi prego, andate a vedere il mio video intitolato se io fossi il premier e ricordatevi che chi vi sta parlando, cari amici, è uno che ha lavorato per sei anni nei forni di notte, di notte, di notte e di giorno studiava e non sono mai andato all'estero, cari amici, non sono mai andato a sciare in montagna, non so com'è fatta la neve in montagna, cari amici, non ci sono mai andato in montagna, ho 70 anni compiuti il 7 febbraio, sono nato il 7 febbraio 1940 e in vita mia non sono mai andato a sciare, non sono mai andato all'estero, mai, 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 mai. E io leggevo libri e studiavo, leggevo libri e studiavo, leggevo libri Studiavo in continuazione e dopo piano piano sono diventato, a forza di farli studiare, di far concorsi, senza andare a divertirmi, non sono andato mai a divertirmi, io mi divertivo studiando, studiando, anche facendo il pornaio, anche facendo il pornaio di notte, capito? Ho fatto tanti concorsi, sono diventato professore di filosofia e storia nei licei, poi sempre studiando, studiando, ho fatto altri concorsi e sono diventato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, però non sono mai stato all'estero, mai, 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 e non sono neanche andato mai in montagna a sciare, e non sono mai andato neanche con quelle barche, no, come chiamolo, le barche, no, proprio sull'arco, mai, 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 e non mi lamento, sto bene così, vabbè, ma sto bene così, eh, perché cosa dice il proverbio? Chi si accontenta gode, ho fatto la mia carriera, adesso qualcuno mi viene a dire, ma tu, tu sei preside, tu sei qua, tu sei là, vabbè, ma bisogna vedere cosa ho fatto per diventare preside di liceo, però, e per scrivere tutti i romanzi che ho scritto e che potete vedere sul mio website personale. Allora, cari amici voi che spinti dalla FIOM, anche la FIOM, anche la FIOM, non li ha visti i miei video, mi dispiace, voi dalla FIOM dovete andare a vedere, anche voi dalla FIOM dovete andare a vedere il mio video intitolato, se io fossi il premier, ma anche e soprattutto dovete andare a vedere i miei video intitolati, la Cina è vicina e occidente default, default, cari della FIOM, se voi li aveste visti i miei video, non li avreste sobbillati questi tre operai che hanno avuto ragione dal giudice del lavoro, ora la FIOM, ora la FIOM ha fatto ricorso, ma intanto non li avreste sobbillati, quando la FIOM ha detto non vi vogliamo nello stabilimento, però vi paghiamo lo stesso, noi della FIOM aspettiamo la prossima sentenza di altri giudici, non gli avreste detto di scrivere, di fare un appello a Giorgio Napolitano, noi adesso arriviamo a Giorgio Napolitano, va bene? Ma voi della FIOM non gliel'avete mai detto a questi operai? Non gliel'avete mai detto voi della FIOM a questi operai? Che il Quirinale, cioè il luogo della presidenza della Repubblica, è il più costoso nel nostro occidente glorioso? Non gliel'avete mai detto voi? Voi della FIOM che avete spinto i tre operai a fare l'appello a Giorgio Napolitano, non gliel'avete mai detto voi che il Quirinale, il luogo della presidenza della Repubblica, è quello più costoso nell'occidente glorioso? Ma cari, si vede che voi non lo frequentate il mio sito, questa mia bella piccola tv, perché ci ho fatto il video intitolato i costi del Quirinale. Pensate un po' voi che il Quirinale, che è il luogo della presidenza della Repubblica, costa di più della regia di Spagna, costa di più dell'Eliseo della Franza, costa di più del palazzo presidenziale della Germania, costa di più della regia dell'Inghilterra, costa di più della White House negli Stati Uniti. Ma perché voi della FIOM non gliel'avete detto a questi tre operai nei cui confronti ho tanta solidarietà per chi ho lavorato de notte? Solo di notte per sei anni lavoravo, hai capito? E ricordatevelo bene, se avete intenzione di rispondere a questo video, che io per sei anni ho lavorato de notte, capito? Nei forni, capito? D'inverno e d'estate, come se sudava d'estate, come se faceva fatica! Ah, come me lo ricordavo bene, guadagnerai il pane col sudor della tua fronte quanto si sudava in quel forno d'estate! Eh, 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 beh, allora, è perché non gliel'avete detto! Prima di dire ai tre operai della FIOM di fare l'appello al Presidente della Repubblica, voi della FIOM avevate il dovere di dire, guardate cari operai, noi vi chiediamo di fare l'appello al Presidente della Repubblica, però noi della FIOM vi ricordiamo che è il nostro Presidente della Repubblica, indipendentemente dal nome, può essere Giorgio Nabolidano, può essere Francesco Gussiga, può essere chi volete voi, sarà ragazzi, chi volete voi, è quello che costa di più nell'Occidente colorioso, è quello che costa di più. In pratica il Quirinale è una super reggia, una super reggia! Chi sta al Quirinale può dare la mano al Papa, al Papa che sta nella reggia adorata del Vaticano. Voi prima dovevate voi della FIOM avevate il dovere morale di dirgliele queste cose ai tre operai della FIOM, della FIOM e questi tre operai della FIOM, una volta saputo che il nostro Presidente della Repubblica, oggi è Giorgio Nabolidano, vive in una reggia che costa di più della reggia di Madrid, della reggia di Parigi, dell'Eliseo di Parigi, dei palazzi della Germania, della reggia di Inghilterra, della White House degli USA, e i tre operai avrebbero detto, ma che glielo fa ma fa l'appello al Presidente della Repubblica, se lui vive in una reggia dorata? Ma che glielo fa ma fa? E infatti che cosa glielo avete fatto a fare l'appello? Vogliamo fare l'analisi del testo? Vogliamo fare l'analisi del testo? Come si fa ai licei? Si chiama analisi testuale? Ma guardate che io l'ho visto questo messaggio, il fatto è che i giornali, i nostri giornali, questo messaggio stranamente l'hanno pubblicato a metà, la prima metà, e quelli del Collegio della Sera, si vede che hanno letto solo la prima metà, se no non avrebbero fatto questo titolo qua, Napolitano critica la FIAT. Ah, cari, c'è da piangere, ma io rido per non piangere, cari amici. Va bene, leggiamo, adesso ve lo leggo tutto il messaggio, va bene? Roma, 24 agosto, ADN Kronos, ora tutto quello che segue sono le parole del nostro Presidente della Repubblica che vive nella reggia dorata del Quirinale, però quelli della FIOM non glielo avevano detto i tre operai che il nostro Presidente della Repubblica vive in una reggia che costa all'erario dello Stato molto di più delle omologhi regge della Spagna, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, degli Stati. Ah, che dovevate vedere il mio video intitolato I costi del Quirinale? Ah, ricordatevi sempre che ho fatto il fornaio per sei anni, non ve lo dimenticate mai, e non mi lamentavo mica, eh, non mi lamentavo, eh, guadagnerai il pane col sudor della tua fronte, capito? La manna non scende più dal cielo, è scesa una volta sola la manna dal cielo, ed allora non è più scesa di manna dal cielo, cari amici, una volta sola, è narrato nella Bibbia, è narrato. Ma ciascuno deve fare molto a sé, e chi fa da sé fa per tre, fa per tre. Ah, FIOM, 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 che dovevate vederlo il mio video, voi della FIOM, il mio video intitolato I costi del Quirinale. Una volta visto il video di Serafino Massoni, I costi del Quirinale, non glielo avreste più detto a quei poveri tre operai di fare l'appello a Napolitano? Ecco, perché leggiamolo, leggiamo la risposta del Napolitano. Napolitano poi non solamente, hai sentito l'appello, scusatemi il termine, si sarà pure il cazzato, si sarà, perché c'ha già i suoi problemi, è relativo al fatto si vota, non si vota, si vota, non si vota, si vota, non si vota, e sapete che ci sono i costituzionalisti che lo tirano per la giacchetta, è il nostro Presidente, il 50% dei costituzionalisti gli dicono, tu, essendo noi in regime bipolare, bipolare, bipolare! e tu non devi fare altro che sciogliere le camere, e si torna al voto. L'altro 50% dei costituzionalisti dice, no, prima devi fare un altro governo, chi ci sta, ci sta, chi non ci sta, non ci sta, altro governo, e ci si prepara al voto. Ce n'ha dei problemi, Giorgio Napolitano, ce n'ha tanti dei problemi. Quando ha ricevuto l'appello, ha sentito l'appello dei tre operai, ha detto, io che faccio? E io vengo dalla sinistra, sto in una reggia, vengo dalla sinistra, sto in una reggia, ma io che faccio? Io gli devo rispondere a forza a questi tre operai che rivolgono a me un appello, ovviamente spinti dalla FIOM, i duri e i puri della FIOM. Ebbè, ma a questo mondo non si può essere duri, 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 bisogna essere un po' flessibili, bisogna essere flessibili, bisogna fare come Serafino Massoni, che siccome in famiglia non c'erano i soldi, ha lavorato per sei anni nei forni, faceva il pane, e di notte, d'estate e d'inverno, o faceva un caldo l'estate, cari amici, faceva un caldo, ma che sauna! Cari, allora il Presidente dovrà rispondere per forza, siccome proviene, non credo che il Presidente della Repubblica abbia mai fatto un lavoro manuale, cari smettitemi, se potete smettitemi, non credo che il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Manuale, abbia mai usato le sue manine per fare qualche lavoro manuale, ha fatto una bella carriera politica, adesso è il Presidente della Repubblica nella reggia dorata del Quirinale, la reggia più costosa che ci sia nell'Occidente glorioso, e allora lui ha detto che io gli devo rispondere per forza a questo qua, questi mi fanno un appello pubblico, il caso è grosso, e io gli rispondo, però ha saputo rispondere bene il nostro Presidente, molto bene, è solo che i giornalisti hanno tagliato, hanno tagliato i giornalisti, capito? hanno tagliato, per cui i titoli sono saltati fuori questi qua, capito? Allora vediamo un po' cosa, che io poi, se io fossi uno di quei tre operai, ricevendo un messaggio come questo, io avrei detto a quelli della FIOM, ma che cosa ci avete consigliato a fare? Di fare l'appello al Presidente, guarda un po' che messaggio che ci ha dato, e ha fatto bene, e si vede che il Presidente della Repubblica l'ha visto i miei filmati intitolati La Cina è vicina e Occidente dei forti, si vede che il Presidente della Repubblica che al Quirinale li seguono i miei filmati, là sì, la FIOM non li segue, per questo ha compiuto l'errore di dire ai tre operai fate l'appello al Presidente della Repubblica, che è il nostro, è il nostro Presidente della Repubblica, magari non se le sporcate mai le mani alla cadena di montaggio, però è il nostro, è il nostro, e hanno tessuto il fatto che il Presidente della Repubblica che viene dalla sinistra sta in una reggia, non una reggia uguale a quella degli altri paesi dell'Occidente colorioso, no, no, una super reggia che costa di molto di più alle radio dello Stato di tutte le altre leggi, capito? messaggio, messaggio, il mio vivissimo auspicio, che spero sia ascoltato anche dalla dirigenza Fiat, spera, lui spera che sia ascoltato dalla dirigenza Fiat, perché ovviamente lui sa già che la dirigenza Fiat potrebbe anche non ascoltarlo il suo messaggio, perché il rischio d'impresa non ce l'ha mica Giorgio Napolitano il rischio d'impresa, gli soldini Giorgio Napolitano li pia tutti i mesi e non ce l'ha mica il rischio d'impresa, allora, il mio vivissimo auspicio, non subisce mica la concorrenza internazionale, il nostro Presidente della Repubblica lo sa pure lui, si vede che i suoi consiglieri vedono i miei filmati intitolati la Cina è vicina, è occidente del Fou, occidente del Fou, il mio vivissimo auspicio, che spero sia ascoltato anche dalla dirigenza della Fiat, è che questo grave episodio possa essere superato nell'attesa di una conclusiva definizione del conflitto in sede giudiziaria e in modo da creare le condizioni per un confronto pacato e serio, su questioni di grande rilievo, come quelle del futuro dell'attività della maggiore azienda manufatturiera italiana e dell'evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale. Napolitano critica la Fiat? Corriere della Sera, anche tu non tieni conto dei miei video? Ma che calacchiusa, sapete come dicevano gli antichi romani? Relativamente a una lettera, dicevano Incauda venenum, il veleno sta nella coda, sta nella coda! Ora, se io ero uno di questi tre operai, appena letto le prime righe facevo un salto così dalla contentezza e mi fermavo, magari noi e io sono in fondo, perché Incauda venenum, il veleno sta in fondo! Cioè io spero che la Fiat mi ascolti, mi ascolti, ma ben sapendo anche voi operai, voi operai, voi operai, che siamo nel contesto, cioè quello qua in cauda venenum, non è venenum, è la verità, ma è la verità poco credita che è meglio eliminarla, trafitta che non ci sia scritta, nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale, per un confronto pagato, pagato e serio su questioni di grande rilievo come quelle del futuro, vedete il futuro, che cambieranno nel futuro, come quelle del futuro dell'attività della maggiore azienda manifatturiera italiana e dell'evoluzione, evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di un'aspra competizione sul mercato globale. Ora voi della Fiat, che cosa potete rispondere al nostro Presidente della Repubblica che dalla sua reggia dorata del Quirinale vi ha scritto questo messaggio, dove parla dell'evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di un'aspra competizione sul mercato globale. Perché la chiave del messaggio, cari amici della FIOM e cari amici tre operai dello stabilimento Fiat di Melfi, la chiave del messaggio non sta all'inizio, ma sta in fondo, quella che potremmo dire in cauda venenum, ma non è la verità, in cauda venenum. Allora, l'evoluzione delle... Cioè, si deve tener conto sui vittori candidieri dell'età e dell'evoluzione delle relazioni industriali e degli accordi sindacali. Si deve tener conto dell'evoluzione degli accordi sindacali. Eh sì, si evolvono. Se la Cina è vicina, purtroppo è così, ma l'hanno già fatto in Germania. In Germania non è che gli operai li hanno messi al muro. No, no, c'è stato un accordo tra il sindacato e la Volkswagen. Adesso le cose vanno benissimo alla Volkswagen. E... dell'evoluzione delle relazioni industriali, dell'evoluzione... Andateglielo a spiegare voi della FIOM, cosa voleva dire il Presidente della Repubblica, ecco scrivendo, e della evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale. Ma glielo avete spiegato voi della FIOM che cosa ha voluto significare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con questa chiusa e della... C'è tenere conto della evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale. Vedete, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, eppure se di certo l'operaio non l'ha mai fatto, è però o per sentito dire o perché glielo hanno detto i suoi consiglieri, e il Presidente ha dovuto tener conto anche dell'aspra competizione sul mercato globale. Perché la Cina è vicina, l'ha detto, l'ha detto in un video Seratino Massoni, la Cina è vicina. Occidente de Fou, e Seratino Massoni è uno che si è laureato e ha impiegato sei anni a laurearsi perché di notte lavorava in un forno. In un forno. D'estate e d'inverno, d'inverno e d'estate. Capito? Non so se abbia fatto altrettanto il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E allora, voi della FIOM, adesso spiegateglielo ai tre operai ai quali voi avete chiesto di fare l'appello a Giorgio Napolitano che cosa significa tener conto della evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale. Spiegateglielo voi della FIOM ai quei tre operai che cosa significa aspra competizione sul mercato globale. Andateglielo a dire voi ai tre operai che in Cina producono senza servizio sanitario nazionale, producono senza statuto dei lavoratori e producono anche senza la legge che vuole che sui posti di lavoro non succedano in Cina 616 mi pare eppure sono esseri umani come noi sono cittadini del mondo come noi i cinesi eppure lavorano certo che noi non dobbiamo tornare a quei livelli purtroppo con la globalizzazione però non possiamo ignorarli i cinesi capito non ci possiamo girare dall'altra parte così ci giriamo dall'altra parte i cinesi non ci sono più non ci sono l'ha scritto il Presidente della Repubblica evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale adesso voi della FIOM fate dei bei dibattiti interni voi della FIOM è perché gli altri sindacati sono tutti d'accordo con la FIAT la CISLA e la UIL sono d'accordo con la FIAT ma credo anche la CGL di Epifani è anche la CGL soltanto voi FIOM Federazione Italiana Operai Metalmeccanici tra l'altro dalle vostre fila è uscito pure Fausto Pettinotti che adesso si gode l'auto blu e l'autista musco ad morte e recentemente gli hanno fatto una multa per divieto di sosta perché era andato al mare capito era andato al mare con una mogliettina auto blu e autista musco ad morte che bello che bello che bello allora io invito voi dalla FIOM a fare visto che siete stati voi di certo voi non credo che i tre operai questa iniziativa di fare un appello al Presidente della Repubblica l'abbiano preso da soli credo che siete stati voi a dire facciamo un appello smidiamolo il Presidente della Repubblica mettiamolo di fronte alle sue responsabilità lui che viene dalla faccia al martello come può esimersi dal non rispondere a un appello eccolo qua fate dei dibattiti e spiegate ai vostri iscritti che cosa ha voluto dire il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano terminando il suo messaggio in calda veneno dicendo tenere presente l'evoluzione delle relazioni industriali evoluzione 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 dei contratti di lavoro nel contesto di una astra competizione sul mercato globale capito? fatele dei dibattiti qua fatele cari cari vedete abbiamo fatto l'analisi nel testo di questo simpatico messaggio è un messaggio che viene dalla Regia Dorata del Quirinale io cari amici vi dico sempre con rispetto ma vi parla uno che per sei anni ha lavorato nei forni di notte d'estate e d'inverno d'inverno d'estate vorrei che voi mi faceste sapere se il nostro Presidente della Repubblica che viene dalla faccia al martello e che ora sta nella Regia Dorata del Quirinale che è la Regia Dorata che è più costosa per i pubblici orari che ci sia nell'Occidente glorioso fatemi sapere se il nostro Presidente della Repubblica ha mai fatto del lavoro manuale fatemelo sapere per piacere e magari fatemi sapere se il lavoro manuale l'ha fatto anche che è l'onorevole Fausto Bentinotti manuale proprio manuale 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 catena di montaggio forno via di seguito anche se il lavoro manuale l'ha fatto anche Mario Capanna va bene? va bene cari amici come in un in un biceo che funziona bene abbiamo fatto l'analisi testuale di un messaggio molto importante io vi ho detto che in cauda venenum cioè il veleno sta nella goda cioè in fondo il fatto è che di questo messaggio viene preso in esame solo le prime due righe nessuno prende in esame è la parte più sostanziale e sostanziosa che ne presenta l'evoluzione delle relazioni industriali nel contesto di una aspra competizione sul mercato globale eh cari amici cari amici la reggia dorata dal Quirinale dal Quirinale si possono stringere le mani al nostro pontefice che sta nella reggia dorata a ripare dall'altra parte del fiume Tevere la reggia dorata più cara dell'occidente glorioso va bene cari amici mi lascio e esorto la FIOM esorto la FIOM a guardare i miei filmati perché mi sono reso conto leggendo questo testo mi sono reso conto che i miei filmati sono seguiti sul monte Quirinale se non dal presidente Giorgio Napolitano in persona di certo dei suoi consiglieri perché la chiusa la chiusa è in sintonia con i miei video intitolati la Cina è vicina e occidente default mi raccomando mi raccomando mi raccomando tutti i giorni dovete guardare il video intitolato se io fossi il premier e poi mentre guardate il video intitolato se io fossi il premier ricordate che chi l'ha fatto per sei anni ha fatto il fornaio l'estate l'estate e l'inverno l'inverno è l'estate l'estate mi ha fatto il fornaio capito? faceva il pane di notte e di giorno lavorava va bene cari amici che bello fare l'analisi del testo come al liceo cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie